Eeeh, tipo te, Dark Souls... Greetings, buonasera e bentornati nel canale di Chromatic Scale. Come sempre sono Icarus e anche qui a farmi compagnia questa sera c'è l'immancabile silenzio. Siamo tornati! Siamo tornati, incredibile ma vero, ancora su For Honor, pronti per prendere un numero di schiaffi... Ininvaginabile! Cominciamo subito con un fantastico duello. Abbiamo ben quattromila acciaio che potrebbero permetterci di comprare questo. Questa cosa? Ma non, di qua! Questa è beta, dai! Ma dai! Queste hanno impazzito, la cosa è ammasa. Questa no, purtroppo. Abbiamo degli ordini che non ricordo. Io voglio guardare il Medico. Eh, certo! Medic! Ma ecco! C'è, però non l'ho presa, quindi dovremmo prima completare sei scontri con un mille eroe viking. Tra l'altro io cito Team Fortress 2. È un gioco che è restato nel mio cuore, ma ci ho rigiocato uno di questi giorni per i saldi di Steam, con tutte quelle cavolatine che fai in punti. Altro no, per l'evento dei saldi. Non è più un gioco attuale, no. No, 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 decisamente no. Ci provai qualche tempo fa bene. Ci provo io. È sicuramente divertentissimo tra amici. Sicuramente. Ah, quello non ci piove. Qualche partitellina così, no. Non è più un gioco attuale, no. Secondo me, non per me almeno. Rimane fichissimo, super assurdo. Compaticissimo, no, con le robe. I personaggi sono meravigliosi. Personaggi, oggetti, no, tipo estetici, le armi. Quanto mi manca per sbloccare il T&D? Sblocca. Ah, ah, ci credevi, acciaio. Ah, non male. Adonante. E vorrebbe sbloccare il T&D? Ah, infatti. Speriamo di trovare... Un uomo in party. Un uomo in stream. Speriamo di trovare... Io non posso entrare. Io non posso entrare. Mi è stato l'accesso ai uomini. Speriamo di trovare un... Io voglio questa. Speriamo di controllare se l'app di Twitch ha sfanculato tutto come al solito. Speriamo... Fatti la pubblicità come sempre. Che non mettiamo noi. Ma metti Amazon. Vediamo. Ce la farà. Non può farsela sapido. La vedo. Warhammer 40.000. Per l'altro... Sì, l'ultima volta abbiamo streamato... Warhammer 40.000, Inquisitor Martyr. Ma è un altro spot. Che stiamo supportando Twitch attivamente da soli. Da soli. Voglio pagarci. Eh, capito. Wink wink. Wink wink. Niente, sembra che stasera non ci sia modo di trovare un duello, una mischia. Quindi ci butteremo in un dominio. Attività molto elevata. Il dominio è sempre divertente. Matic. Chaos totale, ma è sempre divertente. Sì. Andiamo a fare i medici. Matic. Cosa più urlata in una partita di... Di team forno. Di team forno. Anche se la gente è... Anche se fa bene. Matic. Fa male la hiper. Matic. 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 Fondo. La fantastica, la mascotte, i toghi di Saffora. Sì, sì, sì. Con l'ascia di bronzo. Buono. Ancora più... Ancora più gong. Sì, sì, assolutamente. Però è una cosa. Devo cambiare il pomolo di stasta perché è veramente brutto. Bene. Uno cosci. Definito. Ce la faremo a trovare un match questa sera? Ma i tweet ce la farà a riaggiornare le informazioni? Ancora più gong. Quando ho avuta la ricetta? Allora più gong. Non è un uomo. Per amore meno. Non è un uomo. Di in比olo. Allora più gong. Non è un uomo. Ma i tweet ce la farà a riaggiornare le informazioni? Grazie a tutti. E che ci serve sempre, lo finiamo ogni 5 minuti. Sì, per disinfettare le ferite, ovviamente. Serve chiaramente. Mamma mia quanto ci vuole per abbiare se no. Non si può parlare delle bot che abbiamo lezionato su BetterDTV e Frank & Faces. Giusto, scaricatevi l'estensione, così potrete... Scaricatevi i Frank & Faces così fate prima. Niente più BetterDTV. No, dovremmo... Quindi dovremmo editare tutti i video vecchi. No... Adesso vado su YouTube. Con l'asterisco a video. Frank & Faces. No, no, proprio l'audio. E mi raccomando ragazzi, scaricate l'estensione di Frank & Faces. Con il texto speech. Certo. Ah, mi raccomando, per la serie di Bob, trovate i scale consigli, andatevi a vedere la serie... La serie, la web serie di Bruva Alphabusa, If the Emperor had a text-to-speech device. Se vi piace Warhammer 40.000, quella è l'apoteosi del divertimento. Vivamente, vivamente consigliata. E probabilmente potreste anche rischiare di trovare qualche... ...ditazione durante le nostre live. Siamo tornati e proviamo, troviamo un duello, magari funziona stavolta. La giocatoria risposta. La giocatoria risposta. La giocatoria risposta. A quel tempo andremo a sbustare qualcosa. Chi sbustiamo? Qualcuno che non sbusti spesso? Vediamo se riusciamo a trovare l'elmo della pacificatrice che mi interessa. La Valkyria non lo troviamo, quindi... No, ecco, ne ho trovato uno che mi fa schifo. Prova, fa vedere, prova, prova. Però non ce la avevi. Quello no, non ce la avevo. Questo che hai adesso... Non lo possiamo vedere. Dobbiamo... Jason Bourne! Oh, fuck! Jason Bourne! Ci cancellerà anche l'account. Abbiamo un nuovo elmo per la Valkyria, tra l'altro. Sbloccato poco fa. Ragazzi, stasera è serata elmi. Non è quello che cercavo, ma vabbè. Oh, scontro tra ragazze con aste, a quanto pare. Una lancia contro una naghinata. Non guardiamo la reputazione. Non guardiamo la reputazione. Solo 41 punti di differenza. Più bisogno. Eking! 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 E' bilanciato! Primo round! Carappa perché è ancora... E' ancora carappa! Ma c'è un cesto sulla testa, non è un cappello quello. C'è un cotto! Che puoi provare, è stato bellissimo. 3! 3! 1! 2! Fainted! Merda! Finti. 4! No, la staviga! No! Pensata! No! Vittoria! No! Sì! 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 Gli ho spaccato la testa con lo scudo prima che morisci di sanguato. Ma siamo molti tutti e due! esatto però il mio colpe è arrivato prima che è un vittore non un pareggio attenzione, ma è successo ma è successo proprio come si può dire in gergo alcio mi riesco a difendermi praticamente sono morto ok GG quanto mi piace questa situazione però stemma è proprio brutto già non sento più rispondere il joypad Jason Bourne sta facendo la sua magia stancherà non mi ricordo neanche più come mi chiamo che sega sta non uscendo corpettini veloci come la morte sconfitta Ah, com'è che si faceva così? GG. Mamma mia. È terribile, è peggio che non aver sparato un po'. Oh, no, 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 no. Ero perplesso da quello che si vedeva da dentro, poi mi sono ricordato. Ah, è da 12 secondi. Oh, no. Ouch. Andiamo all'esecuzione, è imbloccabile. Non so neanche come ho fatto, se vedi ho fatto un sacco di colpi messi in segno. Non ascoltate, era tutta una tattica. Certo, è normale che era tutto calcolato, che credi? Cerchiamo di sembrare un... Quinto round. Non da competente. Ok, ok. Quindi per questo round. Quindi ovviamente lo sanno che siamo un cazzone. Il round finale. È tutta una tattica per ci sarà calcolato. Ah! Io ho preso un gol. Ah, via. Cosa mi cazzo? Scusate. Ah, via. È male Jason Bourne. Sconfitta. Guarda. Perché sul computer c'è scritto formattazione in corso? È opera sicuramente di Jason Bourne. Ah, oddio. Latenza quasi uguale, come possibile. È Jason Bourne. Il Peter era connesso qui fuori dalla parte. Oh mio Dio! Se perdeva entrava. Ah, cari miseria. Ah, giusto. Mentre aspettiamo. Vediamo un'enchiata a quello che abbiamo trovato. Allora, corazza. Sbustato. No, troppato. Un'altra. Ah, corazza del Fige Piangente ce l'abbiamo già. Questa la cestichiamo. E l'elmo sbustato. Il Mopandora. Ah, il... No, non mi piace per niente. Meglio questo. Questa è il più bello di tutti. Probabilmente darlo da lontano. Non è? Questo è più figlio. Qui è un po' diverso. Il cappuccio da frate. Eh. Ah, gli cambia il cappuccio. Mi piace se avevo fatto caso. Esce tutto a casa. Eh. Per il momento. Di dire cose impronunciabili. Nosh Mad! Nooo! Ogni volta che... Ogni volta che... Ogni volta che scelgo l'Eylander... Ogni volta che scelgo l'Eylander... Ogni volta che scelgo l'Eylander... Vengo sotterrato dai dissulti. Brutto sto per Sergio. Sergio è il bicchietto con il... Un'ora di osso. Meglio il nostro baffone. Direttamente dagli anni 70. Tempi sotto steroidi. Invece che me lago al basso... Poi mentre... Che vengono a guardare. Oh nooo! E' un ruolo di legge. 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 ti fanno quella mossa eh il palletto di me e sapevo io che sarebbe la fare dovrebbe essere stabili sconfitta prima che riuscivi ad alzare la spada ti colpì almeno quattro morte no deve essere la presa ma ovviamente quando ho visto la cosa è partito con l'affumulante con l'iver armor è normale no ma sono perriati è per dire che per quanto è lento ho però un cazzo di rodale ho finito la stamina ho finito l'affumulante ora vado per terra ma che ti riesco a dire eeeh ma sta un calcio le moto della posa offensione fa morire eeeh ma non è vero scuola ahahahahahahahahah rischio è morto eeeh deve essere una finta ma ma no è ragionata ha fintato il calcio per acchiapparlo ma ho preso male di me le distanze non loco non loco ahia eeeh eeeh basta senta besti perri così eeeh 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 o costi ritori vittorio god Guarda quante fatica a far girare questa spada! Adesso come prima cosa io non lo so Ti aspetti un lupo E' scappato! Preso! Oh! Se si addormentava Vittoria! Crashing counter! Crashing counter! Crashing counter! Crashing counter! Wintora! Adesso io spammo l'attacco azzuola stavi a dire Ovviamente perderemo perchè non avremo stamina per aver fatto eliminare la spada Guarda quanti è atletico! Oh! 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 Scusa! Scusa! E muore per un colpa che muore! Però! Guarda quanto dolore! Destro con questo! Oh! 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 La vita! Abbiamo trovato l'elmo iperbone Che so già quindi vi escio è una scettita per i capelli è il mohengus che è ok come sessione di riscaldamento non mi è dispiaciuto appena finita questa con i vichinghi prendiamo medic e andiamo in dominio medic non pensavo di vincere contro il berserker kpotter ho appena perso un altro anno di vita grazie alle maledizioni lanciate da silenzio per aver scelto di nuovo l'ailant devo mostrare tutti il mio baffo va bene l'ailant con lo scudo Tarni Tarni c'è tru Tarni il cappuccio con la maschera da testa tipo testi un primo round lui è l'edgelord per definizione per antonomasia guarda tipo l'infortale di Tarni senti che schiaffi che desidero me piuttoni c attacco a zona no me la ho vieta io l'episod mettere 18 vittive attacco a zona vittoria Ma poi sei mangiato tutta la vara della stag Hashtag funziona sempre Dovremmo lanciare l'hashtag zona attacca Secondo round Attac most best Uuuuh Coglio E io faccio il coiore E' partito lo spam dai Di attacchi leggeri del Del prione nero, è imbattibile E vedi Oh, mi hai dato un pugno mentre ero già morto Sconfitta Darkness And take them through darkness Trafico il primo Terzo round Faccio Non ti permetto di interrompere la mia presa Sconfitta 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 Ho appena scoperto Tra l'altro oggi Da qualche giorno che sto riascoltando Now Diabolical dei Satiri E su Now Diabolical c'è una canzone chiamata Ma come pensi Ricordi che si chiede Ho PCL Alle montane O E' serio Duwere potato Vittoria Oh Adin Blaster Adin Blaster Adin Blaster Quinto Round round finale ma perchè siamo sempre tutte le volte a round finale stasera? sempre a ripare morto e vabbè niente male K-Potter ti adoro a te sconfitta vabbè è tempo di portare il nostro Highlander nel domino eh 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 qui un po' di latenza di differenza c'è vabbè ordini completati soldi esperienza lama difensore eh quella è una di quelle base si quindi ordini ah eccolo qua rianima quanti? cinque nemici ok nemici? non confondermi MADERK MADERK gilgamesh gilgamesh e l'impugnatura l'elsa maglius hanno benissimo roba gilgamesh a parte l'impugnatura e la lama non accetti e quindi l'elsa fa schifo probabilmente ad ora è tutto pronto terribilmente 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 arancione bene oh guarda general shinobi una partita una partita con un 55 12 22 39 silent point alz una serie di numeri complessivi dottor ipotetica grazie però oh ah se non altro il punteggio è normale non è eccessivamente svantaggioso come sempre c'è un bambiano che sta combattendo contro i miei minion ok oh ok ok fantastico ricordate quindi la cittadina per e c'è un gladiatore che ha bisogno sicuramente del mio aiuto hai catturato la zona A c'è qualcuno da rianimare sto arrivando oh se ne è andato eee taaa ho fatto un tacco leggero ma cazzo di niente cazzo ho ammazzato a scondi aiuta ci sta capestando nooo ho ammazzato a scondi gli attacchi leggeri poi è arrivato questo non ho vendicato non ho sempre più scontato il maschile quando è che possiamo sparare tipo la catapulta ancora no è la pacificatrice che non sa che fare ma basta hai perso la zona A oh mio dio sono tutti qui la zona dove vai dove vai sono tutti qui dove stai andando eee 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 volevo dare una mano al mio collega ma vedo che il mio collega se se la sta scavando peggio di me muore è svenuta con la stanchetta eee 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 nooo erano esecuzione però potremmo uccidere qualcun altro enebris vieni qua eee 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 l'attacco a zona eee 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 Ma Shoi... No, sono due Kusarigama. E' uno per mano. Tanto di catena. Non è... Hai perso la zona C! E' perchè sono dei Kama con la catena. Non hanno il peso dall'altra parte. Non è un'arma doppia. No, no, Kusarigama. Eh no, sono due Kama con delle catenze. Eh eh. I le... Si amano le armi. La squadra nemica è inrotta. Mi piace di qualcosa. Non ci pensare nemmeno. Face me! Capi dove scappi? Vieni qua! Vieni qua! Ti ucciderò. Facco imbloccabile. Poi mentre... Ucciderò con uno sciame di minion. Questa è giù la cassa! Guarda il cammino! Guarda il cammino! Guarda il cammino! Ci ha ucciso! E' ritirata! Sei morto il... Adesso l'ucido. Ah 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 ce l'ho fatto! E' inverso la zona C! Eh eh. Ora mi che è inrotta. 500 a 1100. Scusa non c'è proprio... La seconda di dati eh! Guardi che... Zitto! Sono la mia specialità! Per i tre! Questo è morto! Ehi! 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 Ho cambiato il sogno! Un raffreddente! Oh, che scappato il sogno! Un tiro! Ehi! Un raffreddente! Un raffreddente! Un raffreddente! Un raffreddente! Un raffreddente! Un raffreddente! Ehi! il problema è che ne cambia tutte le volte dovresti averceli nel palco e abbiamo pure vinto certo e guarda che sono ultimo solo perché sono entrato tardi vabbè non abbiamo subvenzionato nessuno eh sì l'unica cosa che dovevo fare abbiamo trovato qualcosa di viola sì bracciali e bracciali corazza lederick questa non me lo ricordo guardiana colore reale retwitch più o meno corazza lederick sì è quella con la faccia brutta quella che hai adesso ma con un'altra cosa sì con la faccia brutta lì non mi piace per niente non la butto via solo perché devo guardare il colore twitch finito difesa ecco abbiamo attivato sì prego rimettetemi in squadra con dottor ipotetical nooo così lanciamo doppia catapolta in giro sì non ce l'ho è di là perché tutti gli altri perché hanno messo a me su quest'altra squadra ma come solo a me sono affranto giocherò quest'altro persona edge lord ci metto pure un bonus che fa reputazione cinque prende il tasto la guardia mega galattica guardia è gigantetta vabbè sempre meglio del panettone che c'ha quell'altro quella è quella semplice hanno preso una barra di acciaio l'ho coppito sopra la palina la faccia maltata due martellate in quella per restringerle voglio rigiocare tassativamente anzi voglio giocare tassativamente un'altra volta la squadra solo ward mi piace il fuoco di spade l'avvento altresì chiamato in originale forged in fire maschi poi in originale quindi dato nel fuoco poi mi fanno veramente ridere perché quando amati quelli sembra sempre che siete nella cucina non sono quelli di di una sottofondo eeeh forza non spade ah devo variarmi all'inizio di farlo farlo E' l'over! E' per me! Poi per... ...e' per finale che... ...e' un'azione Quelli partecipati per... ...are... ...sorti... ...no! Hai perso la zona A! Mi piaci che... Siamo tutti morti! Eh, bene! Grazie! Rest in peperoni! Rest in peperoni! La voli di... Oh no, l'ho già preso! Si è attivata la vendetta! Se no magari uno lo portava a me! Revenge! Repent! Dai, unclean! Art Profundis! Abbiamo sempre contro lui! Abbiamo venuto la squadra di prima... ...e me c'è la squadra di prima... ...e me c'è la squadra di prima... ...dissieme a noi e... E le presi! Ok... Chi me c'è... Qui c'è... E' un pochino di tracking! C'è un po' che c'è un po' qui No Medic La faremo mai Tepe è venuto verso l'esterno Oddio Anko, ora ricominciamo Oh Casino Hug Non ho capito che è successo Se ne è sanguinaria Non vedo l'ora che finisce sta partita Perchè tanto C'è speranza Che non abbiamo ucciso neanche uno di loro A nessuno della squadra No Nessuno Andrei chiarissimo a Silent Boy E' un po' di rispetto che ha tirato il Oh no E' un po' di rispetto che ha tirato il Oh, ben d'alta La tua squadra è in rotta Però è assolutamente sta zona amico mio La tua squadra sta caricando Hai catturato la zona C Forse forse E' un po' di rispetto che ha tirato il E' un po' di rispetto che ha tirato il E' un po' di rispetto che ha giusto Un po' di rispetto che è il Il Paoso è in managing ma gli altri della nostra squadra dove sono? stanno cercando di prendere gli altri punti no credo siano tutti di là a fare bordello però adesso se non cupi stiamo un punto stiamo muoio in rotta no intanto il beer è un casino taccamazzo ha catturato la zona a però da tutte le parti no l'unico che non posso vedere arrivare dal... oh guarda un po' chi arriva che è importante hai sorrino a voi beh, apposta la stamina, tema mossa apposta, ho muovato per terra ah, l'ha finita quella lui è la stamina no preso posso i? apposta non c'è andare porto, non c'è niente lui dai, usciti di tempo hai perso l'azione l'ho provato eh, senti ma adesso è ora da arrivare tutto in regioni ah, dai ma è normale che uno cerchi di prendere i punti più vicini allo spawn no, guarda hanno fatto più punti loro che io la tua squadra è in rotta avranno preso dei punti per aver conquistato un puntero, è bello fesso ah eh ubrè 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 ora sei costato una madre ubrè ruotas ubrè 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 è un colpa del tuo Sì, vabbè, vabbè, vabbè. in due contro... penso che sia il giocatore più forte dell'altra squadra con te quasi morto... è lui che stava lì a guardare no, anche lui era quasi morto aveva più... ho capito ma siete in due contro uno ci dovete provare, che fai? ah vabbè, tanto il mio alleato è quasi morto non è riuscito a ucciderlo lasciamogli fare un'altra kill al tipo più forte della squadra corro e muoio contro i Minion o tipo la Shinobi che mi è arrivata posso? no, perché io ho visto solamente lui il Kensei e la Shinobi sì, quell'altro era il conquistatore era Hippothetical è il Dr. Hypothetical Kikking confermo perché c'ho un pallino su da fa spiegare il video? ma c'è... un'altra cosa da buttare? no, forse no sono uguardo io aggiornerò i cosi il nostro amico romano guardalo quante bronze lo sbronzo ti piace lo faccio solo la testa devo cambiargli quello è uno muscolato la sannio la zebra la sannio la sannio le svegli la sannio la sannio dire ok parte chunky monkey messi due communism cazzo xandriandri angry world dei vax e chi 9 copra? chi 9 copra 99? jstubbsy? jstubbsy? chi 9 copra 99? chi 9 copra 99? oh voto mappa vediamo un po forte alto no forte alto no forte alto ci sono troppi bordi da cui cadere il tavolo gioca nessuno però come mappa è carina power rangers no potevo giocare il kensei maggiorni starskid abbiamo un caprone in squadra bellissimo siamo anche un po hot in squadra torrino a volte è invincibile a volte livello 2 sono veramente cattivi e arrivierà a livello 3 peggio ancora guarda la spada delle venti ehhh ciccio ciccio posticcio no non mi viene lukia communism cazzo dovrebbe giocare in volino no i veri bichini io la tua cosa davvero oppure non me l'ha aggiornata devo provare il colore twitch è comparso un bot proprio al momento tutto no no ma della luna oscura si 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 e loro sanno gli invasori e singe solde moon e 5 6 48 3 34 18 te l'ho detto che ho fatto una volta che ho fatto un assalto contro due shugoki e gli shugoki hanno praticamente vinto la partita da su mi piace tutta quella dentatura in cima alla lama della mia spada ma c'è il torriano lì che ci sta fatta ma stai mettendo dove stai venendo il bot sarà comparso il bot insieme ai minim durante la cutscene si vado a mezzo vado a mezzo non so dove vanno i miei compagni ne attureremo nessun punto eh Deidore è gattato adesso no hai perso la zona c MEDIC! Chi va? Buone! X-BANG! Oh MEDIC! MEDIC! Oh, tiieni l'occupato! MEDIC! No, tu ciò che non capito che è qui da parte! È morto! Ho perso la zona A Sì, praticamente sì Hai catturato la zona C Ma non ci vediamo qui a catturare ciò che viene dall'alto Nessuno difende Ma io sì Eh, lo so Ferry, doppio Eh, non so più che cazzo sta succedendo, ci ha messo mezzo al condottiero ha fatto peso Cosa fa? Tu e dei due Mi ha dato una spinta quasi Mi ha dato una spinta con la botta sul muro ritardata di mezzo secondo Hai catturato la zona A Hai catturato la zona A Non morire Non lo dico di dare le scintillazioni Ma... sì Ma è... Ma che ricordo ti ha scherzo? Oh no, è bene che facciano Sto arrivando Sto arrivando Sto arrivando I'm on my way Hai perso la zona A Hai perso la zona A Ti spettavo No, 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 no Eh, non può fare Eh... 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 Hai perso la zona C Allora non sei più che sull'ora, eh? Eh... Eh... Quei dovreste fare voi ma... Provate ad andare in un altro punto Tendo che io lo diverso da qui Tendo che io lo diverso da qui Il bot? Ah no, è uno quello con lo Shaolin Guarda tutto, trovate Hai catturato la zona A Ah, tocca il bot Zed Big boy strike non me l'ha preso Ma ha preso il comando Se sono arrivati tutti in ferro CERATO NO Hai catturato la zona C E affliga C'è affliga E muriga Noo Bravo No, mamma Ah, l'iscio. Ah, liscio. Ma rimato qualcuno, non ha ritornato il 100 milione! No, non prendermi. è stata una botta all'io invece che all'agenturio e poi strike oh è in giù guardatevi oh senti ma sempre loro tanto stanno vincendo un pane che noi siamo tutti qui vede fare così eh oh no oh 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 andà oh 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 incredibilis caro armato e che incredibilis l'ha matta eh infatti adesso guarda se muore niente il tiro muore il mio niente il tiro ma è morto quell'altro vabbè la squadra nemica è in rotta la nemica è in rotta incredibilis era questo il nemico sta caricando adesso lo carimicheremo pure noi a testa avanza oh parati la provvissuto alla carica vieni qua vieni qua vieni qua ah prende il proverbiale 1hp perché non ti vedo la barra della viva no ok no vai di sotto allora hai perso la zona c è bello big boy strike l'ho fatta difendese colpa di lasciare il mare dentro perry ecco sapevo io che gli caricava la vendaglia vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua via 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 non fai non fai ah non fai vieni qua ma non fai vieni qua guarda che ora c'è un video che non me l'ha calcolato no 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 no! ah no! eh no ma si spostano! come! 2 2 2 3 4 4 4 4 la tua squadra è in rotta la mia squadra è in rotta ma come perchè avevamo 30.000 davvero voglio dire che hanno preso i punti di beh lì la tua squadra sta caricando la squadra nemica è in rotta la tua squadra è in rotta la tua squadra è in rotta in rotta va insomma la tua squadre è in rotta la tua squadra è in rotta ластica non morire non morire non morire non morire eh, presa, dai, su, qualcos'altro ah, minna, completamente fermata non è sotto, ovviamente, no mamma mia, mamma mia che, che sconfitta pensa così a comunque tre punti eh se perdi perché c'è basta da conquistare di cui uno è quello in mezzo con i miniot che è contestazione continua, praticamente eh perdi così eh si e sta scadendo il tempo loro conquistano un punto cioè, due punti cioè, uno dei due punti normali vai ammazzi minion e fin, ne vincono boh cioè, si ti puntano di sotto di continuo beh, si, ti hanno prosciugato la barra della stamina non so come eh, calci e pugni calci e pugni e poi l'hanno riempito di spinte finché sei caduto solo in acqua bene, allora io propongo una partita assalto però, prima facciamo cinque minuti di pausa poi proviamo una partita assalto così magari c'è un po' meno veleno in giro l'assalto mi piace in sacco però ci vuole abbiamo giocato bene eh, lo so però, con l'assalto ci vuole tassativamente la squadra che funziona perché o due shugoki eh, ovvero che qui cioè, le partite queste che con dominio e assalto cioè se non c'è un minimo di cronia e di comunicazione che cazzo spero che ti si dopo un po' capisci come un po' e via e tu che dovevate stai te li pugni bene, a fra poco grazie Grazie a tutti. 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 Stavo di giocare il Ken 6. Grazie a tutti. 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 No. Grazie a tutti. 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 ... tutti. 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 tanti. 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 di. ci. Voi. tanti. c'è la gente. c'è la gente che gioca per il pane. E quindi tutti impazziscono. si no. un po i difetti li crea anche la community quello sì. ovviamente. trovì gente che. try harder. cioè. 7 giorni su 7 24 ore su 24 che ti fa le ipercombo tipo da torneo di picchiaduro ma c'è tardi a tardi a colpirli ti manda le hitmail ma guarda allora si deve arrivare il nuovo eroe annunciato che spero vivamente che sia il cosiddetto come si chiama il cosiddetto harbinger il vichingo col martellone perché non ho al minimo interesse verso l'eroe dei bulin ma vabbè non c'è verso di trovare una partita a salto ma vabbè nel frattempo allora main siete un po' tutto e un po' niente nel frattempo guardiamo qua se dai un'occhiata alle nostre notorietà sparse praticamente per tutti gli eroi o quasi potrete notare che i nostri main sono sicuramente i cavalieri a parte il conquistatore che non riesco veramente a farmelo piacere e comunque tornando al discorso di prima la nostra fra virgolette lamentela dal punto di vista dei contenuti è ad esempio una degli aspetti che a noi piacerebbe fosse più curata è sono le armature ad esempio i design delle armature perché adesso quello più più evidente alla fine l'effetto estetico la personalizzazione è importantissimo soprattutto pochi alti che non c'entra nulla con il gameplay anche se c'ha un minimo di build lì ma sì ma quello non c'entra niente il problema oh benissimo guarda il nostro GT è chromatic scale allora quello per farvi vedere quello a cui mi riferisco questa è la corazza predefinita che se non mi ricordo male si chiama campania ok va bene una lorica muscolata bla 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 con la pelle di leopardo sulla schiena e poi adesso che non mi serviva la partita diciamo che ci vorrebbe più varietà perché se uno la corazza di livello superiore è identica solo che ha qualche borchia in più e la pelle di zebra invece che di leopardo e sono tanti reskin alcuni anche carini però cioè non è possibile che ogni come si dice ogni ogni livello di equipaggiamento ha solo una o due minimi varianti no una o due varianti vere e proprie tutti gli altri sono le skin dove magari hanno le borchie o che gioca incredibili incredibili o quello normale dai è vero che ci sono tanti consigli ci vuole tantissimo tantissimi punti da farmare per acquistarle sì però quello è anche un po' come si dice tra noi di solito è perché è trattato più dal gioco free to play che da un gioco buy to play e costa volendo anche da scontato costicchia grinding di punti per acquistare roba dovrebbe essere più giustificato se è un gioco di tre anni è quello il discorso poi dovrebbero aggiungere app modalità cioè la modalità archita aggiunta in su un oddio oddio è un carbo sciamano una carbo sciamano una sciamana carboncino è la fine è la fine chiaramente il nostro laggiù il guardiano della luna oscura non potrà salvarci dalla sciamana la sciamana la carboncino comunque no per risponderti abbiamo una console sola sto giocando solo io e io faccio da commentatori e lanciatore di maledizioni per quando gioco l'eylander semi esterno perché alla fine io per adesso non ci sto giocando finché non faccio il conf per un nuovo poi parliamo così ci piace comunque discutere di queste cose che seguiamo un po' alla cortina diciamo sì 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 qui non c'è nessuna proata o velleità di competizione però visto che il gioco ci piace secondo noi è originale ovviamente Ubisoft in breve è un problema di Ubisoft alla fine perché niente è successa la stessa cosa che l'inizio sembrava chissà che e poi invece rimasti parecchie denunci ma si sono ripresi è un gioco completamente diverso ha un target completamente diverso però no è assoluto il dominio non funzionare perché secondo me non ho concepite bene le mappe e le meccaniche è troppo semplicistica le hanno preso dai moba hanno fatto delle mappe minuscole e senza le meccaniche le strutture in un casino ovviamente i duelli e il sistema di combattimento super tattico anche il duello l'assalto queste cose così le gioco giusto per dare una variazione agli vari duelli o mischi che siano ovviamente sono tutti qui dove sono i miei compagni ok è arrivata una sciamana sta succedendo no non lo so ah 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 l'allegatrice il gladiatore quanto mi piace è veramente veramente divertente i nostri preferiti considerati già nella top tier list dei fan dei follower dei fan e di incontro dobbiamo resuscitare gente resta resta la gente da avanti che si sta per uccidere ce l'ho fatta ce l'ho fatta guarda i danni che ho preso me ne vado me ne vado va bene scusate ma che sta succedendo non c'è dietro spaccati un pugno ecco ora ci uccide l'alleato progino squabo tranquilli questo ti fa onore è veramente uno dei pochi dell'intero pianeta mi scherziamo ma alla fine effettivamente i passi veloci si presta la guerra per tutto il resto c'è l'attacco a zona la zona è da mani oh devo rimanere con questo pallino di vizio tutta la partita adesso vado a suicidare la maschera del pion è spaventata dovrebbe essere qui il punto di fuoco il punto di fuoco è il punto di fuoco nessuno che cazzo sta succedendo io pugno non lo prendi pugno ma come c'è attacco leggero ma come c'è caricato oh tu che cazzo è successo perché no è stato in me mamma si deve nel ranger mi premento provate provate metano le limando con gratulazione fate uccidermi prima l'ho di ringrazio quanti ma esiste il punto di fuoco non me l'ho dimensificato non me l'ho dimensificato sono solo 4 non fatti calzare che stava l'uomo non farci calzare sono solo di calzare possono farti del mate non esiste Il bot rosso... Ovviamente questo è un casino perchè... ...dovrebbe... ...carla... ...di quei voice chat... Ma io a posto! Vincenze... ...batto... ...cassato... ...di... ...è andata una piccola... ...laccata... ...insieme a un pesante in test... ...sì... ...e che ho spiegato cos'è andato... ...com'è andata prima... ...che calderone... ...son morto... ...che calderone devo utilizzare... ...bottatico... ...vai... 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 You son ieri! ...lo hai metto da legge... ...o c'è qualcuno... ...faccia! Oh mio di un'esecuzione nuova, io no, dottor, dai! Ah, che tanto ha rimasto con me, sai che... Ah, assolutamente! E' bello, a volte c'è il drugging, a volte no. Oh, stai salderonizzati! Oh, il mercoledì è il sabato, poi il giovedì è il sabato. Ciao! Senderone! Forte distrutte! Nooo, ti prego, non finire così! Non dirlo! Oh, silenzio, mi strozza qui e subito! Colpa in cuore! Sono un gran fan... ...di pigli che ci serve! Però grazie, lo prendo come un complimento! Sì, assolutamente! Ah, guarda! Per complimento, tra l'altro, considerando il canale... ...un appigliato! Prendete quasi tutto quello che diciamo con le pinze, noi... A noi piace scherzare un sacco! No, c'è uno qui che sta catturando un cotto, non è vero! Vado! Eh, eh, eh! Un basso all'attacco! Non finibile! Lasciami! O! È stato fortissimo! Ho sbattato la spada! L'uomo a bugio! Sono privato del gioco! come ti permetti con l'attacco al zona? No, l'ho ammazzato con l'attacco al zona senza stamina, meglio così Ehi! Eh 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 cerchiatla di Angela. Un pugno. Andara. Tutti conti. Martina. Questi eroi tipo la sciamana, o il Tandii, o la Nuxia, che sono loro solo... non si trovi che corretti con la parte e non mi ricorda che dobbiamo ancora finire ma perchè me lo ricordo si aspetta soltanto il boss finali con tre vite ma quello era dei miei guarda via io devo solo trovare un sabato sera da potermi il raider devo trovare un sabato sera da dedicare da un po battere ish c'è la un po di sale e come siamo si la riete è a metà si ma ammazzato per uno oh riusciamo a scendere da una scala ci siamo dimenticati ero arrivato alla fine gli mancava un soffio poi ma mamma ma quando eravamo per i bicchieri dai tutti roba ma se io ando al cuore mi comincerò dai gli affari tuoi non 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 ma nemmeno nemmeno siiii quanto riguarda il ruolo per il il mondo più umiliante possibile Stava che ritrava tipo... ...fake con l'accento Qualcuno è il botto? Forse ma forse avete... ...darsi Sì, quello era messo in conto già da prima di lanciare la partina Non farlo! E invece l'ha fatto Beh, ovviamente... Ero ucciso di attacchi leggeri dal rider che non è più un'avanguardia ma è un'assessuale Sì, gangbang brutale F-18 Non farò fish Io dovevo giocare l'Eylander Oggi? Per far da tutto Per far da tutto Tintra Dove ero prima da setteventi a setteventi? Settteventi venti col bitrate a 8 video Pii the good Anch'è precio essendo che non c'è la viettiversa renderizzazione della... della qualità video purtroppo Un caldo anche a vida e quando la balla poi abbiamo protetto la porta una cosa adesso incredibili sei morto e non me lo metto è una battaglia di tipo colpi in salto corri 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 forse riesco a calderonare ancora è inchiodato in realtà è carina però uno dovrebbe uno qui adesso lo andremo ad attaccare sarà qui o sarà di sopra fai un pugno? taccati un pugno e fermus e per te pareva no no eh si non possiamo però se lo alza troppo poi ok no era per gli intervoli mica male per caso quella è sempre l'ultima troppo essendo né affiliati né niente Twitch non ci concede di scalare la quantità ma da la possibilità altra 360 il mare ha una qualità interiore non avrebbe senso ma da te a te a te guardate il calderone adesso ve lo dico un'altra volta non c'è no bravo vedi la sua accetta ce ne ha la nostra una la barbola la faremo rientrare prima di domare l'altro no no ancora vivi incredibili vieni 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 dai stai correndo maledetto ninja devi usare il calderon perla quella alright ehi grazie con la riete abbiamo vinto ti rendi conto? e sta qui aspetta e ancora abbiamo tre tre arci sto arrivando eeeh l'efficio è un partner per il c'è per un'altra che è scalare la qualità di beat e anche gli affiliati è casuale a seconda di la patta si ha il cedio dopo multe finale distrutte protegge il tuo sovrano notte qui avete visto? male tanto non gli servono e adesso mi son paccato ora non possiamo più salire perchè il nostro ahhh basta indietro basta in dirlo vai alla zona dell'obiettivo sono da solo vaffa 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 ma ci abbiamo un show con total war vaffa 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 mi hai sempre parlato bene effettivamente non ti permetterò di colpirmi di prendermi a cazzo trottola vaffa 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 io Oh jeez! Sì, sto arrivando e inutile che fai bing bing bing! Eccomi, no! Faccio io! Ma questa è vivo ancora? Oh! 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 Non è che vissi a fare il mio animo! E come? Grazie, l'aga! Ci vediamo la prossima volta, allora! Se ci sei anche sabato, però in mente, no? Sì! Penso di sì! Noi metteremo con la streamerina! Omari e di più! A che ti devi essere passata! Sì, grazie! Devi essere passata, grazie il foglio che ha preso! Come tu vorresti sfidarti? Io, firme! Mantenete le posizioni! Ho fatto resuscitando un altro, intanto! Ahah! Mi è curato facendo AH! E i pugni fanno la canna. E poi viva. Cato un ombrellone. Fai conto di un orlo. Che cosa vuole un orlo? Ok. Ok. E' da un orlo. Cato un capitale. Cato un capitale. Cato un capitale. Cato un capitale. Ecco va. E' veramente ferito. E' che stanno facendo? Sto gravemente in salute invece. è andato un vendetta dai per un soffio quanto mancava è buono, ne so, ho la barra là su un cibo c'è un po' di legno oh secondi però non l'avrei detto un altro paio di bracciali è ora di capcare la maschera parbutus poi ci buttiamo sul duello perchè se no ci vuol troppo per una partita con assalto per quanto me caccia non finisce mai se no c'è quello normale ma con quel pirulino sulla testa questo è quello di meme oh dio no ho cercato di bracciali che sono savia quindi sono come i nostri su un po' questo è quello che mi riferivo prima il fatto che io non ci dovrebbe essere io non ciò che mi riferisco però qual è non mi riferisco Quello è quello. E' uno dei miei zamboni. Ma vi sono quelli da gioco online. Ah, ma no. Game as a service. Ah, un gioco che deve durare negli anni. Se tu non inizi... Un gioco. Un gioco. Muore. Quanto può essere divertente. La gente dopo un po' si annoia. Perché non vede il cambiamento. Non percepisce più. Non c'è la gratificazione. La progressione del drop. La personalizzazione più figa. Ci sono troppi rischi. Se io continuo a giocare ore, ore, ore. C'ho tipo 10 skin. Invece dovrei avere cose... Non devono essere ultra rare, no? Però... La modalità arcade lo dovrebbero togliere da Marching File. No, sì. Non voglio. Cioè la dovrebbero fare come update generale del gioco. Non so. Non so. Non so. Non so. Non so. Non so. Di DLC. Che costa? 30 euro, tipo. Non so. Non so. Non so. Lo standard. No, quello starter. Partiremo. Dominio. Posso tornare a modificare il mio senatore. Ah, è finita. Fuel. Borchiato. Cioè, guarda. Cioè, sono serio? Sì. Che poi mi ero dicendo, ma le dobbiamo spalmare per le tot rarità di quelle... Ok, ma... Cioè, ripeto... Se ci credi nel gioco, troppe ne fai di queste cose. E anni, cioè... Quindi è quelli, per davvero, che è un gioco che... E quelli che fanno la roba estetica per Fortnite, cioè fanno... Eh... Già. Beh... Perché la gente si gioca? Perché c'è dei contenuti... Nuovi di continuo. Perché... Tiene alto l'interesse, no? Vorrebbero fare... Una roba che ormai la mettono a punto. Però dovrebbe essere free to pay. Cosa che c'è anche su Dota, su... Tra l'altro che lo mettano... L'abbiamo messo anche su... Su rigiocatori. Quello che c'è su... Il gioco di carte di Warhammer. Ah, il pass VIP. Cioè... È una roba del genere. Ora, io ti dico una cosa. Io il pass VIP... Ho visto... Tanto... Se ne stava parlando anche l'altro giorno, no? Però dovrebbe essere gratis. Cioè... Lo rendono free to play... Battle pass... E fanno le... C che abbiano un senso. Cioè... Oh, ovviamente il gustore... Come ci va? Non va. Da quel punto... Valdì... Oh, se hai il battle pass... Fai le robe richieste dal battle pass... Un po' che cose... È una sottospecie di... Scambio... Abbottamento... Tra giocatori... Ah... Fra giocatori... o c'è quella dell'evento passato ho due privilegi con questo con questo loadout qui è il kensei kabuki con il grano e anche la lito kiri oltre che con la maschera da tengu la forza l'attacco infirmus togliti milioni perchè c'era un minion di loro sali 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 presi 100 hai perso la zona a io ti ho un momento quasi attento che ti passa a quel punto di ricorda 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 ho fatto il punto z la mezz il le i il al il carri 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 attacca e stiamo qui a uccidere i minion e prendere il botto ma la spogna della volta a distruzione te ancora no che succeso lì realizzato il cuore medic medic venite con me andate sul fuoco è vostro amico è caduto addosso ma non si sa più pensere devo premere qualcosa bolla come come c'è un golpe ma non c'è un pezzo ma che c'è un pezzo milioni 30 milioni 30 se l'ho fatto un ferri e la compagnia non no mezzo e ci sono ragazzi ci sono tranquilli il vostro romano preferito è tornato a conquistare il punto a hai catturato la zona a un romano invisibile sto arrivando a kensei sto arrivando a resisti accati a un super pugno della morte una vecchia barbara barbara vuoi un pugno? ecco qua ma perchè sei scambuto e pure sei scambuto? non sono riuscito a fare il terzo hai ragione è sotto sto colpo hai perso la zona a hai perso la zona tutto è sotto ma ne abbiamo perso sulla zona a perchè il fantasma del centurione ha smesso di non si si sta patestando il culo nooo l'americana no l'americana è la vendetta che non si accende mai e mi suspende pure il controller Stiamo distruggendo il terzo... No, non è vero, non lo sto distruggendo niente Di quel punto, penso che hai fatto andare da me in giù Non lo sto distruggendo Ora comparirà un Ravenheart simpatico in chat No, ma aspetta, non lo sto distruggendo, ci mancherebbe Che c'ha il filo, quindi c'è... Basta poco per... Allora... C'è un pugno? Tante, un pesante, un altro pugno? Non riappodartelo perché... Hai perso la zona A C'è un pugno! Ammazzo tutti! Ho pregato l'esecuzione l'altra volta Vabbè, anzi... E' assoluto i primit! Ma un assoluto i primit! Abbiamo avuto un set completo da partner verificati... Hai catturato la zona A Oddio 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 Ce l'abbiamo... Hai perso la zona A Le mod del... Not Emperor Libid Assolutamente Libid Ehm... Slagura... Resistence Libid Per un... Last game Hai perso la zona C La cosa con i centipoli Nooo! 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 Ehm... 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 L'ho ucciso io praticamente Hai catturato la zona A Non perdiamo tempo Si sembrava che i eroi quando arriva sul Shippo parla no? Ehm... Ehm... Si Ehm... 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 Hai perso la zona A. Basta! Ho sfogato tutta la mia ira nell'ultimo attacco a due. Sto arrivando con un pugno. E uno è un attacco pesante, un altro. Poi uno spettacolare. E poi muore. La squadra nemica è in rotta. Poi lo pugno a te. Eeeh, fanno la terra, l'ha impec... Nooo! Dove lo ha inciso dal figlio? Dove lo ha inciso? Vieni qua. Guarda come corre. Ah, almeno questa l'abbiamo ucciso. Anche noi l'abbiamo colpito lì. E' un'aura viola. Sì, è l'aura della base picatrice. Grigunino. Hai catturato la zona A. Oh, scusa. Ma dove sono tutti? Hai perso la zona C. Oh, la zona C. Così di Zack and Save. Vai andare per il primo lui, no? Nooo! Ce l'ha per questo, dai. Hai catturato la zona C. Oh, è uno di mie. È uno. Facciamo cura la notte. Allora, scendo. Dove è fuggito? Dove è fuggito? Dove è fuggito? Guarda, un'ondata di Minio è tutta per noi. Ah, sì! Ah, eccolo, l'ho trovato. Corri! Non vedo niente. Ci bello. Possiamo catapultare! Oh, mio Dio! Adesso lo catapulto. Se si ferma... Vale, se si ferma. No, ma è Kyria! Guarda come fugge! Kill di catapulta, Mau! Eh, se si ferma lì, eh, sì, eh. Certamente sulla scala. Guarda di fuori! Oh, un vinto la cosa! Oh, un vinto la cosa! Mi ero! 92 minuti di applausi, gente. Quindi questa avrà fatto una vip. Fateli fuori! Bah! Cioè, è proprio scisa nel momento esatto in cui arrivava. Ma poi hai visto quanto è stronzata il targeting? Cioè, io c'avevo l'having target, normalmente avrebbe fatto il corpo di catapulta su D-Day. Però sulla scala si è sfasato. Hai visto che era più in basso rispetto a lei? E lì, c'è finita precisa, precisa per pagare il T-Day. Realmente meraviglio. E scatenate l'inferno! La vittoria, no? Sì. Va bene. Con questa... Chiudiamo in bellezza. Chiudiamo in bellezza? Chiudiamo in bellezza? Assolutamente. Ah, no, aspetta. Per chiudere in bellezza dobbiamo verificare... L'abbiamo fatta? Sì. Ma aspetta, mi hanno mandato... Che ci hanno scritto? E' un tipo fese in russo. Non lo so, non vedo scritto niente. Rispondendo a questa richiesta di messaggio si passa alle chat. Rispondendo. 355. 355. 355. Ma non c'è chitto niente. 355. Ma non c'è chitto niente. 355. Eh... Tu non ho letto. You like Jets? What? E chi era? Yes. Non lo so, va bene. Ok, probabilmente sarà stato sicuro. I like Black Jets. Ah, fantastico. I Shining Fertzessi che tra l'altro qua sta dato che sono ancora attivi e sono piacere di tantissimo e non fanno più quella roba figa che facevano inizio. Ah, adesso saranno tornati a fare Bold School, Black Metal, Zanzaroso che non si capisce niente. No, sono gli Shining Swedishi, gli Shining Norvegesi che facevano Black Jazz. Eh, non sono gli Shining Shining. Eh, vabbè, ma dico, anche quelli saranno regrediti a fare musica inascoltabile, suppondo. No, fanno musica che non... Country. Cioè, se vuoi te la faccio sentire. E devo quello che faccio io. Magari si possono essere messi a fare Black Metal. Quindi, dopo questa vittoria catapultata tra le nostre mani, freschi di vittoria con il nostro centurione, MVP della serata, il miglior catapultatore di persone. Vi salutiamo. Io vi do appuntamento a sabato. Se tutto va bene, dovremmo vederci sabato. Quindi, grazie ancora di essere passati. Grazie di averci spiegato. Ti ha lasciato un follow. Assolutamente, sì. Beh, per quanto riguarda i Real Anxiety, ci ha lasciato il Gamertag, che adesso andrò sicuramente ad aggiungere, se non l'ha già fatto lei, tra l'altro. E... Non lo trovo più, quindi va bene. Ok, ecco qua. Bene, lo aggiungeremo al più presto, così magari riusciremo pure a giocare insieme durante qualche live. Quindi, grazie ancora, seguiteci dappertutto sui nostri follow... Sui nostri social. Followate i nostri social. Sì, era tutto per quello. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Su YouTube vi ricordiamo che trovate le live ricaricate. Sì, nude e crude, perché sennò non riuscireste a seguire i nostri discorsi utopici e distopici. E, bene. E, niente, ci salutiamo con questa gloria bronze a... Le catapulte. Buonanotte. Buonanotte e... Buonanotte. 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 Buonanotte.